Che aspettative sul futuro hanno i giovani d'oggi? Somministrando un questionario ai sognatori della Dreamer School, ora lo sappiamo. Un giovane d'oggi sa precisamente cosa vuole fare del proprio futuro. L'università è poi un lavoro creativo e fantasioso. La media dei ragazzi non desidera assumere nel proprio lavoro posizioni di potere, ma piuttosto preferisce lavorare in maniera sicura, senza quindi rischiare il licenziamento. Traguardo questo considerato abbastanza lungo da raggiungere nella situazione attuale. L'adolescente spera di arrivarci e pensa positivo. Un consiglio per tutti, oltre a desiderare che dal futuro si tenga ciò che si vuole, pensate a come arrivarci concretamente.